Fondamentalmente è un film sul desiderio di sentirsi vivi e credo che il bisogno che muove le scelte Denea è quello di sentire dentro di sé il movimento della vita ed è un film su questo e tutti i personaggi a loro modo provano a sentirsi vivi e da qui si genera un conflitto. Se magari i ristoranti o luoghi che frequentenea possono essere elitari però quel desiderio di quella vitalità è incorruttibile e quel desiderio di sentirsi vivi non è elitario per me è trasversale a tutti i giovani e forse di qualsiasi epoca sicuramente di qualsiasi città e di qualsiasi quartiere. Poi il conflitto borghese insomma l'idea era quella un po' di svincolarsi dal cliché per cui la famiglia borghese apatica genera dei figli nichilisti. In realtà Enea per me è un eroe romantico e viene da una famiglia che non è apatica, è piena di umanità. Insomma la scena della tale credo lo testimoni. Il disagio che vive è proprio quello di provare a essere all'altezza delle sue ambizioni e si trova a vivere in un'epoca, in un contesto dove la paralisi prolifera perché poi il paradosso tragico dell'esistenza è che uno la vita la sente meglio in guerra e quindi poi Enea e Valentino e tutti gli altri soprattutto Enea e Valentino per sentirsi vivi si inventeranno una loro guerra. Sono stati fatti i capolavori assoluti, insomma sono stati fatti i gangster movie assoluti, quindi il punto di vista che mi ha appassionato era quello di raccontare le conseguenze del sottobosco criminale nella vita di tutti i giorni ed è come se sotto traccia si muovesse un gangster movie che però non appare mai e ogni tanto no entra nel film Enea e lascia impreparati insomma il spero il pubblico sicuramente personaggi che non se l'aspettano quindi si cercano di creare un mondo dove si possano sentire vivi insomma e quindi di creare un mondo dove insomma dove baci possano tornare a esistere e per fare questo insomma sono sono quasi disposti a tutto e tra di loro c'è sicuramente una un mistero che li che li lega un forte legame, un fortissimo legame che sconfina nell'amore proprio perché sono mossi da un desiderio incorruttibile che è quello che muove l'amore quindi c'è sicuramente amore tra loro due come c'è amore tra Eva e Denea, tra me e Giorgio Montanini. Le musiche sono molto importanti a prescindere dalle musiche insomma di repertorio credo che siano anche molto belle quelle che ha fatto Niccolò Contessa nelle musico originali del film sono molto belle e sulle musiche insomma la scelta è sempre molto istintiva insomma poi uno deve anche affidarsi del proprio termometro emotivo sono entrambi sia Maledetta Primavera che Spiaggia sono canzoni soprattutto Maledetta Primavera e a cui sono a cui ho tanti ricordi legati alla gioventù perché era una canzone che si cantava molto allo stadio c'è un coro della Roma famoso e Spiaggia è anche ma mi si sente? Ripete tutto ragazzi e quindi Spiaggia è anche insomma una canzone che credo racchiuda molti elementi del film la nostalgia la giovinezza la voglia di vivere l'estate che finisce anche qui ho provato in tutti i modi a non fare un film con mio padre per quanto sapevo che insomma che poi il personaggio di Celeste si muoveva su una frequenza emotiva ironica che nessuno come mio padre avrebbe intercettato forse da Dan Driver no scherzo scusate ho sbagliato però è una battuta e quindi no e quindi appunto però poi insomma anche un mestiere psicologico quindi provavo ho cercato altre strade e però poi insomma una sera mi convinzi lo chiamai timidamente io mi addormento molto molto tardi lui lui si addormenta molto presto era luna per me era prestissimo lo chiamai se va tu saresti libero a settembre e lui mi rispose fanculo sto a dormire e riattaccò era un sì e niente questo poi ho scoperto una cosa che poi alla fine girandoci le persone ma questo parla solo io mi dispiace le persone poi negli ambienti più formali nei contesti più formali le comprendi meglio no perché le vedi fuori da dall'intimità e vedi come si relazionano col mondo mettendo da parte tutto il loro vissuto che tu conosci è stato un modo per comprenderci credo mi ricordo che tempo prima di quella telefonata notturna ero andato su imdb sai il portale quello che scoprì che ero accreditato per 99 titoli e quando lui mi propose il film mi resi conto che il film che avrei fatto con lui sarebbe stato il centesimo e questo mi è sembrato come dire un amorevole segno io credo molto in questi segni un po romantici un po casuali il centesimo significa che dovrò azzerare il contatore farei i successivi cento insomma se regge la pompa poi alla fine ho fatto il film con grande è stata come dire una relazione molto tranquilla molto sorgiva senza doppi fondi senza ho fatto questo film come ho fatto gli altri 99 cioè obbedendo al disegno diciamo così poetico al percorso che il regista mi aveva indicato e come ho fatto gli altri 99 quando potevo tradendolo che è quello che un bravo attore dovrebbe fare mettere qua e là delle bombe che poi sorprendono il regista e così via tagliate tutte tagliate tutte non è vero non è vero non è vero no 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 tenute tutte tenute tutte detto questo vorrei mi piacerebbe fare un discorso velocissimo sulla è chiaro che insomma la relazione per me che sono il padre è una relazione emotivamente particolare però insomma come come ho detto insomma abbastanza semplice abbastanza sorgiva abbastanza naturale noi parliamo di questo film come il secondo film di pietro no io mi permetto di come si dice di offrire una chiave di lettura un pochino più insomma diversa per me questo è è la fine di una trilogia secondo me di pietro nel senso che pietro comincia dieci anni fa sono testimone essendo il padre ha cominciato a scrivere 10 11 anni fa e scrive i predatori prima dopo i predatori c'è questa digressione nella letteratura 9 con gli iperborei e poi rientra dentro al cinema con questo film secondo me c'è come un una chiusura dei conti con questo percorso qua da te che penso che lui dovrebbe pensare al quarto film più che al terzo cioè andare andare oltre come abito mentale l'ultima cosa che volevo dire poi non parlerò più è che la cosa che mi appassiona di questo film è il sentimento che pietro è riuscito a mettere dentro queste due stagioni dell'esistenza più che generazione la generazione una parola un po così che rimanda a qualcosa di sociologico come parlerei di stagioni della vita la giovinezza la vecchiaia l'età adulta l'età matura chiamatela come vi pare e c'è una generazione di adulti in particolare i suoi genitori che sono persone molto per bene molto per bene però crepati dentro in qualche misura falliti no a come dire a controcampo a fronte invece di una generazione di giovani che sono molto per male che però hanno la potenza e la forza di cercare ancora di essere romantici e tragici questo li rende più leali dei loro genitori credo che questa sia una come dire una delle cose più più belle che il che il racconto del film mette in scena stato un lavoro per me molto felice devo dire era un film complicato coraggioso e devo dire mi sono molto affidata a questo quadro così preciso allo stesso tempo sfumato che pietro ha disegnato sulla carta nel quale poi ci ha accompagnato durante le riprese e penso sia un film molto emozionante con una stratificazione di storia quando io ho visto il film in realtà non mi ricordavo esattamente tutte le dinamiche di tutto quello che succedeva e sono stata proprio travolta in una in una dimensione unica specifica di questo di questo enea che come dire ci fa vivere a tutti noi questo conflitto questa difficoltà di fare i conti con la con la vita la difficoltà anche di amare perché poi sono appunto è un film che racconta molto anche di questi legami profondi fra fra eva ed enea fra enea e valentino insomma questi conflitti di questi personaggi secondo me come diceva anche giustamente sergio in tutte le varie le varie fasi della vita sono sono molto d'impatto sono molto realistiche in un quadro che però metaforico diciamo da qualche parte anche con dei rimandi anche grotteschi dove succede c'è questi iperbole che 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 diventa quasi una una favola nera a un certo punto con però con una radicato invece con su dei valori che su dei principi che che conosciamo bene ecco è la generazione che poi raccontiamo a proposito di generazione e la roma che che viene raccontata nel film è una roma anche inedita per quanto mi riguarda con delle cose che effettivamente ci ricordano la roma che conosciamo ma con degli spiragli e degli squarci di di una roma che io sinceramente ho molto amato in questo film nonostante fosse un insomma laustrofobica e difficile però anche con uno sguardo accogliente da qualche parte come se fosse una culla dove questi personaggi cercano ognuno di sopportare la vita ecco torno un attimo bomba riguardo al fatto di trova l'intruso l'intruso ero io nella famiglia perché ci siamo ritrovati a girare per esempio la scena a cena eravamo io Sergio Cesare e Pietro e io mi sono adattata e sono stata incastrata in questa famiglia con grande libertà libertà è la parola che mi viene per come Pietro mi ha condotto con molta grazia ad ottenere quello che voleva sperando che lo abbia ottenuto il film secondo me rende tematiche molto molto struggenti con grande eleganza delicatezza e classe e quindi io sono molto ho avuto modo di poter esprimere tutto quello che erano le mie difficoltà io non sono un genitore quindi era stata la prima madre che ho mai fatto al cinema e quindi è stato bellissimo perché bellissimo e riduttivo ho potuto comprimere tutto quello che era successo nella mia vita cercando di sembrare una persona che vuole essere un modello un modello genitoriale e purtroppo fallisce non ci riesce mi ritengo una persona molto fortunata di far parte di questo film grazie io sono molto emozionato a far parte di questo gruppo fantastico io questo è un sogno e questo regista pazio e visionario che mi dà questo ruolo completamente diverso grazie grazie a te grazie a te per festeggiare per me è stato liberatorio interpretare Gabriel e Pietro mi ha dato una possibilità di andare un po' a briglie sciolte mi ha chiesto anche ogni tanto di improvvisare è stato ovviamente un lavoro fantastico la sceneggiatura non esiste in realtà no in realtà lui ha mandato poi quando ha deciso che Gabriel doveva avere quest'occhio io non porto neanche lenti a contatto quindi mi sono spaventato molto ho detto devo fare tutto il film con occhio solo perché non vedevo da un occhio ho detto ogni tanto intruppavo sul set però insomma è un sogno stare qua beh è stata una grande emozione lavorare con Pietro Castellitto è stato un onore ho trovato un amico anche nella sua famiglia ho trovato delle persone davvero meravigliose quindi il più grande complimento che ti posso fare è dirti che lavorare con te è stato facile perché veramente hai messo tutti quanti a proprio agio mi dicevi sempre stai sereno poi lui è un genio ironico mi ricordo una volta stavamo girando questa scena in un locale di Roma c'erano 400 comparse si stava morendo di freddo erano le due di notte e lui voleva questa scena di discoteca molto diciamo agitata e le persone stavano morendo di freddo non ce la facevano avevano mangiato un panino allora lui a un certo punto ha preso un microfono e ha urlato con tutta la sua forza siamo o non siamo una generazione di merda e allora a 200 e poi è partita freed from desire a tempo giusto sono tutti impazziti e la scena è venuta clamorosamente veramente insomma io questo è un film di personaggi e quindi devo praticamente tutto agli attori e ho sempre pensato che quando incontri un attore è più importante il caffè che ti prendi prima del provino che non il provino con il congiorgio abbiamo fatto tantissima caffè su caffè caffè su caffè dopo bottiglie di vino ed è importante relazionarsi incontrare persone che abbiano questo è un mestiere dove il talento lo crea la personalità e quindi è importante lavorare con persone che abbiano filtrato le esperienze della vita in maniera personale questo è fondamentale e io ho avuto la fortuna di lavorare con attori che questo l'avano fatto, che avevano la vita dentro e in prima fila ci sono due attori che dentro hanno un mondo che sono Giorgio Montagnier e Damodionisi perché non è scontato, spesso incontri dei ventrilo qui al posto degli attori, gente che è abitata da una rabbia che non è la loro, si indignano tutti per le stesse cose invece Giorgio e Damodionisi sono pieni di mistero grazie per la parola, così a tradimento volevo dire che in un cinema ho fatto sempre dei algoritmi e parametri che sono più validi per vendere l'aspirapolveri che per l'arte Pietro è per me più come un tarantino che esalta gli attori a prescindere quindi penso che il merito sia suo piuttosto che il nostro credo, scusate se parlo un po' come il gatto Silvestro ma c'è un apparecchio ortodontico no vabbè scusate, lo dico, se uno dice parla male no, è che c'ho una cosa e sono bisessuale grazie grazie a tutti innanzitutto è un po' particolare questa storia con Pietro perché ci siamo empaticamente presi subito senza parlare fondamentalmente stavamo facendo il provino io mi ricordo una cosa che mentre parlavo mi guarda vai, vai di flusso quindi lì ci siamo agganciati empaticamente non siamo io non sono più uscito da quella cosa è stato chiarissimo a parte è geniale a mio avviso perché riuscivo a fare delle cose stavamo recitando insieme controllava la regia quindi poi Pietro gliel'ho detto ieri sera tu hai la favilla negli occhi quindi non perdi mai nulla ma non solo non perdi nulla resti coerente nel modo in cui dai amicizia alle persone perché questo è stato un film secondo me è un film per tutti sull'amicizia è una grandissima storia d'amore e di passione perché fra i gangster esiste un amore viscerale che per tornare a casa hai bisogno di chi hai vicino se no non torni più a casa e viceversa quindi secondo me nel film commovente da morire scritto in una maniera ha osato tantissimo io ho visto delle cose che a me sono piaciute tantissimo cioè è un film che mi rende orgoglioso nel senso ho potuto partecipare e soprattutto per la prima volta ho visto delle cose nuove in me che vengono un po' da quella roba che dici tu no? l'ultima cosa che hai fatto poi fai dei percorsi e quindi sono arrivato magari senza accorgermi però ho avuto la facilità di farlo tradendo da mestierante alcune cose ma sapevo che Pietro già conosceva e poi lo ringrazio per la battuta dell'albero perché io quelle le dico così di defaulte e quindi ora me la ritrovo grazie grazie a tutti grazie grazie